Ciao Gossip! Ci sono state delle situazioni, delle circostanze in cui Jack ha fatto delle cose che, viste da un punto di vista oggettivo, probabilmente io non avrei fatto, però poi il discorso è che ci devi trovare in quelle circostanze per sapere effettivamente come ti comporteresti e come reagiresti. Certo, da attore in un personaggio, soprattutto un personaggio così, ci metti tanto, tanto di te stesso. Io sono sempre stato molto contento, molto felice perché il personaggio che mi è stato affidato, che sono cinque anni che interpreta un personaggio che comunque va sempre avanti, che si evolve sempre, che si muove e che quindi rappresenta per me a doverlo interpretare costantemente nuove sfide.